Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti o bentornati su TotalGames, io sono sempre Domingo, oggi andiamo a guardare insieme un po' gli aggiornamenti futuri per quanto riguarda la prestagione. Questa patch la ritroveremo fra tre patch, quindi nella 9.23, attualmente siamo nella 9.20 e vediamo un po' cosa vogliono cambiare e eliminare. Allora, iniziamo a parlare subito della landa degli elementi. Le landa degli elementi non sono altro che modifiche che vengono fatte alla giungla in base all'elemento dei draghi elementali. Questa meccanica si attiva uccidendo il terzo drago della partita, ucciso il terzo drago la landa inizia a modificarsi, cioè cambia, non è che inizia, cambia subito. E in base all'elemento del drago ucciso questa, diciamo, varierà. Andiamo a vedere il drago infernale, come muterà la landa. Sostanzialmente i cambiamenti ci sono, ma non sono proprio così tanti per quanto riguarda il drago infernale, a meno dalle immagini che ci mostrano. In buona sostanza andrà a modificare l'antro del red, non ci sono più queste pareti ma si creeranno altre due entrate vicino al red. E in più il cespuglio posto qui viene eliminato, diciamo che viene bruciato. Ok? E l'antro del drago diventa più infernale, se possiamo dire così. Non vedo pareti crollate, quindi dovrebbe essere mutato, cambia solo diciamo a livello estetico. Per quanto riguarda il drago della landa, cioè per quanto riguarda il cambiamento dato dal drago dell'oceano, questo sembra quello diciamo un po' più bello, almeno sembra un po' più utile. Cosa va a fare? In pratica il drago dell'oceano andrà ad ingrandire e a far spawnare altri cespuggi, quindi spawneranno altri due cespuggi, uno posto qui in alto diciamo sul river, nel fiume, e uno direttamente nell'antro del drago. Andrà ad ingrandire, questa è l'immagine del drago dell'anugola, andrà ad ingrandire alcuni cespuggi tipo questo di troll red e questo in basso diciamo, sempre nella zona del red buff e in più farà spawnare dei frutti melosi per tutta la giungla. I frutti melosi sono i frutti che danno, che curano una parte della salute e una parte del mana. Di genere una parte della salute e una parte del mana. Per quanto riguarda il drago dell'anugola, ovviamente qui ci mostrano poche foto, ma ora non so se altri cespuggi vengono aumentati, penso di no. Comunque, quando uscirà sul PBE ci farò un video. Comunque andiamo a parlare del drago dell'anugola e come cambia la landa. In buona sostanza il drago dell'anugola crea delle zone, qui sempre intorno al red, dove la nostra moment speed verrà aumentata. Quindi, in questa zona, tipo la passiva di Scarner. Scarner, nella sua zona, conquistato il cristallo, aumenta sia la velocità d'attacco che la velocità di movimento, se non ricordo male. Qui, in buona sostanza, il concetto è simile. Ogni champion, sia alleato che nemico, avrà un aumento della moment speed. Questo aumento della moment speed, oltre in questa zona del red, dovrebbe esserci anche nell'antro del drago, che vedo comunque questa lune di... questa specie di... non so come descriverlo, comunque sembra similare alla zona del red. Invece il drago della montagna andrà a modificare la mappa, in buona sostanza fa spawnare altre rocce, altre pareti. Una la ritroviamo qui, vicino all'antro del drago, e l'altra vicino all'antro del red. Anche vicino ai golem gemelli, i Krag, sono i Krag? Vabbè, comunque i golem gemelli io li chiamo. Va a creare queste due strettoie qui, molto... Molto utile, probabilmente per o farmare, o... Non gancare, invadere, counter, junglare. Vabbè, poi qua vedremo un po' come vengono usate ste... Ste nuove mappe, se possiamo chiamarle così. In buona sostanza cambiano alcuni buff dati dai draghi, se non sbaglio solo quello della nuvola viene cambiato. Allora, il drago infernale darà un aumento, conferisce un aumento percentuale di attacco fisico e potere magico. Il drago dell'oceano avremo una rigenerazione percentuale sulla salute mancante ogni secondo. Questo se non mi sbaglio dà anche il mana. Dà anche il mana, non mi ricordo, mi vuole un attimo un lapsus. Comunque, il vigore montano, qua lo chiamano, sembra un po' una pubblicità, tipo quella della canna. Vabbè, sto divagando. Il vigore montano, il buff dato dal drago della montagna, aumenterà sia l'armatura che la resistenza magica. E invece, questo è quello che ricordo sicuramente che è cambiato. Grazie a nebulosa, ovvero il buff del drago della nuvola, non darà più la velocità di movimento, un aumento della movement speed, visto che ci sono adesso le zone che lo danno, ma ci darà una riduzione del tempo di ricarica della suprema. Poi, ogni drago ci darà un'anima draconica. Al quarto drago ucciso, quindi se un team uccide quattro draghi di fila, avrà un'anima draconica. E quest'anima draconica la può avere solo un team, perché ho ucciso il quarto drago, spawnerà il drago, il drago maggiore, stavo uccendo il drago antico, il drago maggiore. Ok, quest'anima draconica cosa fa? L'anima draconica viene droppata in base all'elemento dominante, quindi se abbiamo due infernal, un drago della nuvola, un drago della montagna, avremo l'anima draconica dell'infernal. Penso di aver capito giusto, penso che dovrebbe essere così. Comunque, ogni tre secondi, se prendiamo quello infernale, ogni tre secondi il nostro attacco successivo, abilità che infligge danni, ovviamente, crea una piccola esplosione ad aria e infligge danni ad attivi che crescono l'attacco fisico bonus, salute bonus o potere magico bonus. Il drago della nuvola cosa fa? L'anima draconica del drago della nuvola, praticamente colpire i nemici con abilità o attacchi, ridurge il tempo di ricarica delle abilità base. Quindi il drago della nuvola adesso è stato, diciamo, pensato per ridurre cooldown sulle abilità, invece prima veniva usato per aumentare la moment speed. L'anima draconica dell'oceano, invece, infliggere qualsiasi tipo di danno attiva una potente rigenerazione della salute e delle risorse per tre secondi, quindi infliggendo danni noi ci rigeneriamo salute e, penso, anche mana, ovviamente, dice delle risorse, quindi anche il mana. I danni inflitti a minion forniscono una rigenerazione minore, quindi questo è minore, questa rigenerazione, se attacchiamo i minion. Anima draconica della montagna, se non si subiscono danni per cinque secondi, si ottiene uno scudo, che il nostro scudo è più grande, in base all'attacco fisico bonus, potere magico bonus o salute bonus. E questo scudo scompare, praticamente, se veniamo attaccato, ovviamente, questo scudo diminuisce. Ho già detto che l'anima draconica la possono ottenere solo un team e, una volta presa l'anima draconica dal quarto drago, comparirà il drago maggiore. Ora, il drago maggiore, anche questo è stato cambiato, adesso non dà più un aumento dei buff, cioè non aumenta più buff dati dai draghi elementali, ma andrà a darci, quella chiamola, immolazione maggiore. In pratica, se attacchiamo un champion avversario con poca vita, l'ustione data dagli attacchi baffati dal drago maggiore, andrà a giustiziare completamente i champion avversari. Questa esecuzione può essere bloccata, adesso vediamo anche il video, può essere bloccata dalla zona, dalle abilità, tipo quella di Kindred, quella di Vard, che è una zona. Comunque può essere bloccata, ma il marchio, perché se non ricordo male, dovrebbe comparire un marchio vicino alla salute, che ci indica che siamo soggetti all'immolazione del drago maggiore. Quindi, anche se torniamo, diciamo, dalla stasi della zona, abbiamo comunque questo marchio vicino alla salute, e se, in questo caso, tipo Twitch ci riattacca, possiamo venire di nuovo giustiziati. Adesso vediamo il video. Praticamente qui siamo con un Twitch, anzi, una situazione con Twitch, andiamo, ovviamente, al buff del drago e focusserà questa Lulu. Viene ostionata, qua ci fa vedere nel marchio del drago e nella salute, comunque parte questa animazione dell'anima del drago, il drago maggiore, che va a one-shotare, a giustiziare Lulu. Allora, quanto riguarda i draghi, possiamo toglierceli da mezzo, per il momento, e andiamo a parlare alcune modifiche che vanno a fare sia in corsia superiore che in corsia inferiore. In buona sostanza, creano questi meandri, queste zone, vedremo come verranno usate, sostanzialmente, saranno molto utili per i jungler, per gangare, comunque creano queste specie di piazzole, qui, in corsia inferiore, in corsia superiore. Poi, invece, in giungla, andranno ad aggiungere, andranno ad aggiungere, due cespugli permanenti, di fronte al drago, e di fronte al baron. Sostanzialmente vicino ai due blu, sia per quanto riguarda la zona, della mappa russa, che nella zona della mappa blu. Ok? Vogliono anche modificare, l'esperienza, e la quantità d'oro, dai crag, si sono resi conto, si sono resi conto, che in alcune partite, cioè, non in alcune, nella maggior parte delle partite, i jungler startano, dal buff russo, così da, da, da pulire quella parte di giungla, e, di conseguenza, fare il livello 3, più velocemente, vogliono che, o si starta dal blu, o si starta dal red, diciamo, nello stesso tempo, bene o male, si riesca a fare il livello 3, quindi, vogliono, pareggiare questo, vogliono pareggiare questa cosa, cosa fanno? Diminuiscono la quantità d'oro, e esperienza, che prendiamo dai crag, e aumentano la quantità d'oro, e l'esperienza ricevute dal gromp. In più, hanno aggiunto sulla minimappa, un timer che ci indica, il tempo di spawn, di tutti gli altri campi della giungla, prima c'era solo quello del blu, e del, solo del blu, e del red, e ovviamente del bar, e del drag, che adesso mettono anche, mettono il timer, su tutta la giungla, per tutti i campi della giungla, in più, influenza in corsia superiore, si sono accorti sempre, che, in molte partite, il top lane, anche se vince la partita, cioè, se vince, la lane, e snowball, in molti casi, non riesce a carriare il game, cosa fanno? Adesso, se giochi in corsia in singolo, riceverai più esperienza, che giocando, in corsia inferiore, quindi, se si gioca in corsia inferiore, nei primi, minuti di game, si riceverà meno esperienza, si riceverà meno esperienza, viceversa, se giochi in corsia superiore, anche in mid lane, quindi le corsia a singolo, riceverai più esperienza, così da permettere, o al top lane, o al mid lane, di fidarsi, più velocemente, di salire più velocemente di livello, così da fidarsi, inoltre, hanno ridotto il tempo di spawn, hanno anticipato, il tempo di spawn, del drago maggiore, cioè, da come devo stare a dire, hanno anticipato, il tempo di spawn, del messaggero della landa, così da, in pratica, se riusciamo a prendere, il messaggero della landa, nelle fasi iniziali della partita, tipo quando spawn, dopo qualche minuto, c'è la possibilità, di farlo rispawnare, per quattro quadri, degli oggetti da supporto, viene eliminata la moneta, lo scudo di Targon, adesso può venire buildato, anche dai champion ranged, non verranno più, in pratica, non dovremo più comprare, il secondo stadio, il terzo stadio, dell'oggetto da supporto, perché questi verranno, si evolveranno, facendo determinate missioni, in più, viene abolito, diciamo, il fatto, che, in corsia centrale, o in top lane, si poteva buildare, la moneta, cioè la moneta, oppure lo scudo di Targon, e il vantaggio immacolato, per farmare soldi, indirettamente, e farmare, i CS, cosa fanno adesso, se buildi, se buildi, oggetto da supporto, e farmi tutte le minion wave, ricevi meno soldi, puoi comunque farmare qualche minion wave, se sei da supporto, basta che il gioco non rileva, che tu stai farmando tutti i CS, in quel caso, ricevi meno soldi, per quanto riguarda invece, gli oggetti da letalità, si sono resi conto, che in tutte le partite, buona parte delle partite, un assassin, cosa fa? O builda, la magre buscolare, o la yomu, la fine della notte, non se la caga nessuno, in buona sostanza, non so perché, forse perché, ritengono che sia, cioè, non lo so in realtà, perché non la builda nessuno, io di solito, qualche volta la buildo, comunque, a parte questo, cosa fanno? Vanno a cambiare la passiva, cioè l'attiva del, no, in realtà, tolgono l'attiva, che ti dava uno scudo, dopo tre secondi, se non ricordo male, uno scudo che blocca le abilità, e gli danno la passiva del velo della benshee, adesso, con fine della notte, abbiamo uno scudo permanente, che viene eliminato, dopo un'abilità, e va in cooldown, in realtà, dopo ritorna, comunque, velo della notte, fine della notte, avrà la passiva, del velo della benshee, aggiungono un altro oggetto, per la letalità, l'ama sanguigna, questo, viene descritto, come un oggetto di letalità, che servirà, per lo split pushing, cosa fa? Se ci troviamo, in corsia singola, cioè, se ci troviamo in corsia, da soli, avremo un aumento, della velocità d'attacco, praticamente, il champion, avrà un buff alla velocità d'attacco, attaccherà, autoattaccherà più velocemente, così da permettere, lo split pushing, con più facilità, in più, dicono, che ci sono altri oggetti, che stanno testando sul ppm, ma che non ci, non ci dicono, quali sono, quali sono, altri oggetti, in pratica, tolgono la lancia di Shojin, la lancia di Shojin, è forte, su alcuni, su alcuni champion, ma, sono resi conto, che sono pochissimi champion, che la usano, e pochissimi champion, che la usano, la usano molto bene, quindi, cosa fanno? Decidono di toglierla, modifica le rune chiavi, vengono modificate, alcune rune chiavi, tipo, cioè, tipo, viene modificato, il conquistatore, le protomanzia, scossa, di assestamento, per quanto riguarda, la scossa di assestamento, non vogliono più, che champion mage, più che altro mage, ne abusano, tipo Ryze, Lissandra, champion, che non dovrebbero usarla, cosa fanno? Riducono, le statistiche difensive, che dà questa rune, e aumentano, le potenzialità, la forza, le potenzialità, di danno, ai tank, che la buildano, per quanto riguarda, invece, il conquistatore, non vogliono farla, cioè, non vogliono più, che venga buildata, contro i tank, quindi, cosa fanno? Questa rune non darà più danni puri, ma, vogliono dare, un maggiore potenza, alla forza adattiva, cumulabile. Per quanto riguarda, invece, la kleptomanzia, la kleptomanzia, viene abusata, per farmare gold, in early game, soprattutto, con champion ranged, contro milia, cosa fanno? Riducono, la quantità di oro, che, ricevuta, in early game, e aumentano, la quantità, di elisir, che danno, a inizio partita. Per questo video è tutto, spero che questo video, di essere stato un tantino utile, se il canale può interessarti, ti invito a iscriverti, dai un'occhiata al canale, troverai nelle playlist video, per quanto riguarda, spiegazioni sui champion, ultimamente usciti, guide sui campioni, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti, bella, ciao a tutti.